ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo retro gaming di crash bandicoot oggi proseguiamo con raccogliere il resto delle gemme adesso facciamo livello upstream ok non vedo tanto perché sono messo fuori allora scusate ma non è che ci veda bene qua ok 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 e Grazie a tutti. E cavolo c'è, non vedo nulla. Ok, mi sono messo dentro perché fuori non vedevo nulla, perché ancora c'è abbastanza giorno fuori. Ok, già c'è fresco qua da me per questo. Ma dentro purtroppo fa caldo. Una parola qua. È solo l'olta. Ok. 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 Ok ok, ma dai, mi ho aspettato che spazzavo! oh oh speriamo che iniziamo bene perfetto perfetto mancano praticamente 9 gemme quindi 9 livelli praticamente ok allora questo era il boss quindi no quindi rolly stones io spero che le trovo tutte le casse perché veramente cioè guardate dov'era nascosta nell'ombra aspettiamo dai ah ma qua abbiamo il bonus di brio quindi devo anche stare attento a rompere le casse ok qua è un bel rischio no forse no perché ho la maschera ok ma vaffanculo scusate ma non vorrei che il fatto che prendo la maschera sia peggio perché non vorrei che così mi tolga scompaia poi all'improvviso poi le mele ho sbagliato per esempio allora allora Fanculo Allora, quelle tre non ne hanno Ecco, vedete Perché l'ho dovuto fare Ha fatto bene Ho fatto bene allora Allora, l'unica cosa che spero Di non aver fatto danni più avanti E di conseguenza Di non aver perso L'altro bonus di Nubrio Vaffanculo Non dovevo colpire quella cassa Perché si vede che è un salto Sicuramente Vaffanculo Perché va là, cazzo? Ma allora è una fissazione, cazzo Devo colpirlo per forza sopra Allora Allora Ok, finora nulla Perché qua c'è la prima parte del bonus Con la gemma Allora Allora perfetto ma anzi io pensavo che il bonus l'avessi fatto ormai praticamente tutto invece qua mancava una parola vabbè che è uno dei più facili e vaffa il culo sempre nel secondo eh vabbè ne ha scavalcato tutto perché cazzo non lo si imbalza non ce la farò mai così però cioè non mi rimbalza il secondo qualca buttagna oh finalmente ok qua già immagino possa cadere non ci si vediamo perfetto ok 90% di gioco non farò il 100% purtroppo perché non prendo l'ora lì però forse anche un 95% lo faccio questo è già stato fatto questa di qua penso che dobbiamo fare qui manca anche la gemma non vorrei che siano casse nascoste come è successo in quello livello odio questi salti ti giuro la cosa che ho da più di crash di questo crash sono questi salti di nerd guarda guarda Grazie a tutti. Salvo. Va bene, non ci sono qua, fino a lì. Ok. Lo sapevo, lo sapevo che doveva rimbalzare come un cratino. Ok. 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 Allora c'è una maschera, ma non ho comunque scatto. Non penso che scongi come cazzo comunque. Non c'è nulla. Va bene, non ho visto cazzo. Ecco, qui non vorrei che ci sia qualche troll, nel senso che non vorrei che adesso ci sia qualcosa di nascosto. Cazzo, non mi facevo andare là. C'è l'ultima volta, se ricordate, c'era un passaggio dietro. No, no non mi dire. Ok, fino a un certo punto non c'è nulla. Allora c'è il passaggio veramente, secondo me ci sono dei bug massaggio, perché non è possibile. Allora c'è l'ultima volta. Allora c'è l'ultima volta. Bastardi. 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 Aspetta. E allora voglio provare a fare la stessa cosa qua. no non c'è nulla perché non mi ci fa andare quindi no ma io non potevo farci nulla cavolo qua si complica sempre di più la cosa a posto siamo qui veramente complicata la cosa ma un tuo cavolo in alto devo andare nelle nuvole letteralmente sono nelle nuvole per una cassa no vabbè ci devo camminare sotto le nuvole naffanculo ne ha fatto salire il problema sta a tornare poi qui perché non so mamma mia non finisce più cos'è mi sa che devo fare a strada la inversa perché non c'è più nulla qui devo per forza buttarmi perché non posso farci nulla mi chiedo se anche qua mi chiedevo se c'è il passaggio anche qua tipo baggato certo non mi sorprenderebbe infatti ah lì era possibile ritornare però vabbè ah ad vaffanculo, pezzo di merda sto pezzo di qua cazzo non mi ci vuole fare arrivare mamma mia il livello più merdoso di sto crash i livelli più merdosi no ma ci devo riuscire non me ne ho fatto un cavolo state fermo ok qua abbiamo tante casse a destra è un problema prenderle però ok salviamo abbiamo un'altra cassa qua centrale non vedo altre casse sparpagliate speriamo bene anche se è un brutto presentimento ok no ce l'ho fatta invece finora sta andando un po' troppo bene con ste gemme siamo a 19 adesso che facciamo un ultimo livello e ci fermiamo qua per oggi no aspetta andò un pochettino indietro perché non vorrei che allora questa forse l'abbiamo totalmente finita qua abbiamo il boss si la prima isola è totalmente completata perfetto adesso abbiamo questo di qua app dei creek ok questo non dovrebbe essere tanto complicato almeno spero che 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 Grazie a tutti. Che cazzo, perché ogni volta che fa la scivolata è come se ci deve essere l'olio, ogni volta, ogni volta. La scivolata, volevo dire, la giravolta. Scimmia di merda. Scimmia di merda. Ma figlia di buttana, tua madre è una grandissima zoccola. Mamma mia, veramente, cioè, prima si sta verso di qua e poi torna subito. Ma che cazzo di ragionamento è? Bastarda. Ma la parte della gemma dove cavolo è? Ok, può essere che è verso qua? Dai, atterra bene! È rimbalza nell'acqua, vabbè. Oh, finalmente. Non vorrei che è dietro. Vaffanculo. Meno male che sono tornato indietro. Era dietro. Meno male. Il problema è... Devo colpire solamente la cassa della TNT. Immagino adesso... No, stop. C'è un problema? Sì, c'è un problema. Queste cose cadono. Però non ci sono cassa, a parte la Reaser. Vabbè. Perfetto. Sì, c'è un problema. C'è un problema. Vabbè. C'è un problema. C'è un problema. Ma qui non c'era la gemma Ma allora forse l'ultima volta Ho dimenticato quelle due casse Spero che erano due casse Mi sa di se perché ora lo tengo Quindi qui è stata una dimenticanza Non è il fatto che serviva la gemma Va bene ci possiamo fermare qui per oggi quindi In teoria mancherebbero sei livelli Quindi forse con altri due video Concluderò Concluderò di crash questo tipo del primo Vediamo perché il problema È che ricordo che ci sono ben due livelli Impossibili Perché cavolo Non so come prendere le casse Quelle là Una volta che ovviamente Altrimenti devo prenderle morendo Ma bisogna vedere se si può fare oppure no Una forse sì L'altra non penso Allora questo era boss Quindi no Qui l'abbiamo presa Qui l'abbiamo presa anche Quindi prossima volta Dobbiamo fare questo di qua Presumo che forse Qui ne abbiamo Solamente due Aspetta c'è la chiave C'è anche la gemma Sì Va bene Ok Se questo video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un mi piace E noi ci vediamo Alla prossima Ciao